Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Sei una persona molto umile, ok? Parti dai radici molto umili. Considera che io, allora, inizio concretamente a lavorare nel settore dell'autorologeria, quindi con ditta individuale, perché ho iniziato da lì registrata, nel 2011 inizio a commercializzare l'orologio da appassionato nel 2007. In tutto ciò avevo un'altra attività in valo, facevo un altro lavoro, capito? Io nasco come geometra, quindi totalmente un altro settore, un altro lavoro, e da lì nasce tutto. E quindi, come mi dicevi, poi è stata la tua passione che si è tramutata in lavoro. Bravissima. E immagino che sia stato poi un piacere enorme quando poi hai ottenuto risultati. Passi graduali, tantissimi sacrifici, tanti, tanti, tanti. E ti dico, era un momento in cui, lo posso dire oggi, era leggermente più facile. Perché riuscivi, posso immaginare, riuscivi a partire, appunto, con un'attività basica, con un budget dimensionato. Oggi fai fatica. Infatti, allora, io sono contentissimo di averti qua, perché penso che per la prima volta ho effettivamente un appassionato di orologi al podcast. E questa è una delle mie più grandi passioni, l'orologeria. Mi piace tantissimo. Ovviamente l'orologeria per le persone è tante cose. Per me è principalmente ricordo. Ricordo e affezione. Ma sai, io dico sempre una cosa, che secondo me è una cosa bellissima. L'orologio, se tu lo prendi in esame, è l'unico e il vero gioiello da uomo. Ogni uomo deve avere un orologio al polso, qualsiasi esso sia. Non è, non importa se vale centomila o cento euro. Ma l'orologio ha un significato ben preciso ed è, io la chiamo, identificazione della persona. Che poi magari si tramuta in quello che sia status o quello che sia, come lo chiamano gli appassionati, conversation starter, ok? Quello è un plus. E tra l'altro alcuni magari la criticano questa cosa al conversation starter. Per me invece è una cosa molto interessante. Perché ecco, vuoi parlare, vuoi chiacchierare con una persona interessante che ha la tua stessa passione, che ti guarda l'orologio al polso e dice, ah ma questo è, ah ma quindi perché tu? E poi inizia a parlare di bambini, famiglia, che hai fatto a Natale. Tutto quello che vuoi. Sicuramente diventa un bellissimo argomento di conversazione. Però ti assicuro che per un appassionato l'orologio non è assolutamente status. Assolutamente. Per me non è così. Da appassionato ti posso dire che non è. Per me non è status, ma riconosco che per la maggior parte delle persone, per la maggioranza, è così. Perché sono le persone che non ne capiscono. Ma è quello che ti ho detto io. Per il vero appassionato l'orologio non è status. Esattamente. No, infatti ti dico, ecco, da appassionato il mio forse brand preferito di orologi è Casio. Cioè perché io mi ricordo che da piccolo il mio primo orologio è stato un G-Shock, essendo del 95, quindi stiamo parlando proprio del boom del G-Shock e della Casio. Visto l'escursus che ha fatto negli ultimi anni il G-Shock. Sì, che sono ritornati praticamente indietro. Bellissimo, mi piace. Ma ovviamente ho anche pezzi molto più interessanti. Sì, ma vedi, questa è passione, capito? È in parte collezionismo. Sì, certo. Il bello è questo. Certo. Per esempio ti dico, vedi, ogni tanto qualcuno commenta alcuni reel che facciamo, alcuni pod che abbiamo fatto, eccetera, eccetera. Quando scrivono in maniera, secondo me, inutile, te la butto lì. Il Tudor è il Rolex dei poveri. Questa è una cosa che non sopporto. Chi scrive una cosa del genere, di orologi, non capisce niente. Perché sì, sono due mesone vicinissime, ok, tutto ok. Ma sono due prodotti ben diversi, destinati a un pubblico diverso, con una storia e un'iconicità completamente diversa. Oddio, più o meno parallela. Perché il signor Rolex, per fare prove, diciamo, ha utilizzato questo brand. Però ti parla una persona che ha il social Black Bay 58. Ed è bellissimo. Lo adoro. Ed è bellissimo, perché quel 39 lì ti dicono, ne vendiamo una marea. Ti immagino, dicono, la copia del Submariner. Ma non capiscono, ma no. Non ha senso. È un altro filone completamente, no, assolutamente. Sono da. Ti dico, no, perché negli ultimi anni hai visto che Rolex ha preso una strada specifica, Tudor ne ha preso un'altra. Sì. Il tuo paragone è valido per il discorso dei materiali, assolutamente sì. Adesso se vuoi tocchiamo questo tasto, volentieri. Sì. Che Tudor prima utilizzava materiali Rolex. Ti faccio l'esempio, ti faccio l'esempio. Il discorso del titanio. Titanio, Tudor, ha maggiormente approfondito il titanio. Rolex, titanio, adesso, Yosemaster, hai visto? Sì. È da un anno. L'hanno voluto provare con Tudor per poi mettere. Benissimo, benissimo. Mi spaventa il discorso bronzo a riguardo. No, vabbè, non so, facciamo lo stare. Mi spaventa tantissimo. A me personalmente non mi fa impazzire. Allora, sul discorso piace, non piace. Così come quello in argento pure che hanno fatto. E lì, anche lì, apro una parentesi se vuoi. Ok. Lì piace, non piace, ne parliamo. Ma sono i numeri quelli che contano e ti dico che i numeri non ci sono. Non vende bene. Io ti dico che il bronzo non ha assolutamente i numeri, secondo me, necessari per parlarne. Poi questa è una cosa affascinante, la tua posizione, perché ecco, tu da appassionato e anche adesso commerciante, cioè adesso, da… 2011. Esatto, 2011. Effettivo. Esatto, da 13 anni. Tu hai anche, come dire, la fortuna anche di capire un pochino prima l'andamento di mercato, penso. Beh, sai, alla fine lo capiamo fondamentalmente con i numeri che abbiamo in mano. Abbiamo in mano dei numeri e lì capisci il trend reale qual è. Come funziona? Scegli tu quali, quanti pezzi avere in negozio? La scelta dei pezzi stessi? Certamente. Quindi, ecco, vedi, forse lì… Considera che tutti gli acquisti, tutti gli acquisti li curo io personalmente, naturalmente. Ho il supporto del mio team, ma li curo io totalmente. Scelgo io per comprare 10 Daytona, 10 Su, 10 GMT e così via. Ok, allora ammetto che, vabbè, io ho visto anche Goldfingers, mi piace tantissimo, mi piace molto la politica. Beh, film storico, aneddoto. Esatto. Vabbè, pure quello immagino, aneddoto che ci avrai qua dietro. È collegato. Ok, no, non mi piace, però purtroppo è, penso, quello che voi commercianti di orologi di lusso dovete andare incontro, che bene o male i pezzi che vedi sono sempre quelli, ok? Ti dico, non è detto, non è detto perché io sono uno di quelli che in parte ha fatto anche la differenza. Ok. Il negozio ha avuto orologi contemporanei, perché io principalmente sono specializzato sul contemporaneo, sul nuovo vintage, come l'ho appunto, l'ho intitolato io. Cioè, tu per nuovo vintage intendi dal 2000? No, per me il nuovo vintage è tutto lo zaffiro fuori produzione. Io l'ho chiamato così. Ho deciso, è stata una mia decisione. Ok, ok, ok. E ti dico, per me ha anche un senso, perché fondamentalmente ci sono stati dei passaggi fondamentali, che ti dico, ti faccio un esempio, iconico, storico, 16610, Submariner. Se tu guardi da lì, dallo stop della produzione, c'è stato un cambio radicale, cambio radicale di tutto il segmento sportivo, quindi passaggio alla ceramica, cassa, bombata e tutta una serie di fattori tecnici che hanno realmente creato una svolta, parlando dello specifico modello. Quindi per me, ti dico, un cinque cifre oggi si può definire nuovo vintage, 100%. Può essere che non condividi questa cosa con me. No, 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 no. Però ti dico, vuoi o non vuoi, oggi siamo circa nel 2020. È affascinante che tu vai giustamente, quando parli di neo vintage, vai sul materiale. Cioè parli del materiale, non dell'anno, perché poi giustamente... No, 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 io ti parlo di dettagli tecnici fondamentalmente. Sì, 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 vabbè, è quello che poi forma l'orologio. Esatto. Quindi sì. Tu hai notato un cambio, ecco, questo poi è la cosa forse più interessante, ed è quello che credo in un certo senso ti porta qui oggi e anche ad altri podcast a fare interviste. Io penso che la pandemia ha cambiato tutto. Tutto, totalmente. Ma tutto il mondo in generale. Totalmente. In particolar modo il mondo dell'orologeria, che a un certo punto è come se ci fosse stato non un ritorno ai tempi gloriosi, ok? Quindi io ti parlo anche prima della crisi del quartino. È come se non solo avesse avuto un nuovo cool, ma come se avesse avuto pure un boost. Ti dico anche perché. Cioè è come se l'orologeria dal 2020 fosse diventata una status. Allora. Non so se è una percezione social. Penso probabilmente sì. Ma io ti spiego tutto. Ti dico proprio come è realmente la situazione. Già nel 2016, 2016, sono iniziati, si sono presentati sul mercato degli incrementi importanti a livello di rivalutazione di determinate referenze. Il rep. Principalmente, pardon mi sono imparato. Principalmente stiamo parlando dei tre brand più citati. Parliamo di Rolex, di Odemar, di Patek. Patek. Arriviamo anche lì se vuoi. 2016, diciamo, la macchina già girava in maniera diversa. Ti parlo dal punto di vista economico barra collezionistico. Ok. Ci sono state delle aste importanti che hanno caratterizzato tutto ciò. Arriviamo al 2018. Questo fenomeno ulteriormente aveva una marcia in più. Covid 2020, attenzione, ti fermo un attimo. Covid 2020, i primi due, tre mesi del Covid, la situazione non era assolutamente splendida. Assolutamente. Ok. C'è stato un freno del prodotto, c'è stato un freno, un fermo del mercato, i primi tre mesi. Anche di non produzione. Si è fermato tutto. Si sono fermate le produzioni, si sono fermate le fiere, si è fermato tutto. Ok, vabbè, si le fiere per forza. Tutto il mondo. Quindi ti dico, c'è stato un attimo di misunderstanding, punto di domanda, non si capiva cosa poteva appunto accadere. Succedere dopo, sì. Bravissimo. Dopo tre mesi ti dico cosa succede. Succede che il collezionista, secondo, come la vedo io, attenzione, non ha più paura di quello che sta succedendo nel mondo della pandemia, eccetera, eccetera. Inizia a ricoltivare la sua passione, eccetera, eccetera. Perché c'erano pure più soldi feriti. Inizia a cercare l'orologino perché, tra parentesi, capitano le situazioni un po' anche ridondanti e risentite. E a casa, tutti chiusi a casa senza far nulla, l'orologio vai sul sito, vai su internet, a destra, a sinistra, ti documenti. Ti viene voglia di comprarlo. Certo. Riparte la macchina, ripartono le richieste, inizia nuovamente, quindi, il mercato a essere... Come si suol dire... Caldo. Più che caldo, inizia di nuovo a esserci un crescendo. Ok. Ma c'è una cosa alla base che è fantastica. Fantastica, ti parlo dal punto di vista commerciale. Che succede? Ma anche il prodotto. Il prodotto non c'è. Ok. Il prodotto non è disponibile. E l'inizia tutta la malattia. E lì iniziano i prezzi ad andare su a livelli pazzi. Hai l'assenza del prodotto, quindi, conseguenza per l'assenza del prodotto, c'è una richiesta maggiore. E' enorme. Ma ti spiego perché non c'è il prodotto. Allora, devi capire che il... Non ti parlo del piccolo venditore, ma anche del medio-grande venditore. Chi fa questo mestiere come il mio non ha uno stock di 1500 orologi in magazzino. Parliamo di numeri ben diversi. Ti parli di 100, 150, 200 orologi in magazzino. Non parliamo di numeri che se inizi ad avere delle richieste pazzesche, tu hai uno stock che puoi soddisfare richieste per un anno e mezzo. Assolutamente. Brand indipendenti. Esatto. Quindi, cosa succede? Succede che iniziano ad esserci determinate richieste, principalmente, sempre, dei soliti tre brand. Ok. I prodotti finiscono nelle giacenze di magazzino. Via, si vola. E i prezzi schizzano su alle stelle. Questo perché l'essere umano poi c'ha questa cosa che funziona nella testa di tutti, comunque, del FOMO, no? Fear of missing out. Sì. Secondo me ce l'hanno tutti, ovvero, questa cosa in trend va di moda, la voglio pure io, attenzione non la trovo, non ce l'ho, non ce l'ho tra le mani, come faccio? Oddio. Ma ti dico anche un'altra cosa, non è stato solo questo il focus che volevano raggiungere. Cosa succede? Attorno all'orologio, e questa non è una cosa bellissima, quella che ti dico, attorno all'orologio inizia a essere, appunto, percepita una forma di guadagno facile e veloce. Nel momento in cui sono schizzato. Perché c'era una plusvalenza reale, visibile, e ti dico, molte persone si sono improvvisate nel settore e, appunto, ci sono trovati i commercianti di tutti i tipi. Bene, da lì, principalmente, tanto focus è caduto sull'orologio per il suo potenziale economico. Ok. Potenziale economico, possibile guadagno, guadagno facile, guadagno veloce, e da lì è successo quello che è successo, i grafici, se li vedi, sono andati tutti in su. Cosa succede? Finisce la pandemia, riaprono i mercati, riaprono le fiere, una marea di merce ferma lì. Anche però una marea di nuovi acquirenti e di appassionati. Tanta merce ferma lì, viene rimessa sul mercato, ma... Adesso non ci sono i soldi di prima. No, non è solo quello. Sai benissimo che se ci sono 100 richieste e c'è un prodotto in vendita, il prezzo di quel prodotto e commercio va su alle stelle. Certo. Se ci sono 100 richieste e poi ci sono su 100 richieste e 1000 disponibilità, il prezzo scende. Crolla, certo. Ecco cosa è successo. Io ho sempre pensato, scusami, ho sempre pensato che l'inizio, ciò che abbia dato, ecco, lo start a tutto questo, a questa mania dell'orologio come status, ecco, fosse la cultura hip hop, del rapper che c'ha il pezzo forte sul braccio, sul polso, io voglio essere come lui, di conseguenza. Che ovviamente va anche un po' giustificata, perché se fosse per tutti così, o ci vuole, G-Shock e Casio impedirebbero così, perché sono probabilmente gli orologi più indossati da rapper americani anche, però ovviamente essendo questo materiale prezioso, comunque di un certo stile, di una certa classe, di un certo posizionamento anche strategico all'interno della società e del marketing, forse è questo anche che ha alzato da subito questo trend. Ecco, la tendenza non è stata creata solo da determinati personaggi che hanno un seguito importante, per non dire importantissimo, la tendenza è stata creata anche da tutte queste situazioni reali che si sono presentate nel mercato dello specifico settore. E sono in pochi, secondo me, che si sono magari forse appassionati, ecco, per la mania e la follia del momento, che però sono rimasti per effettivamente la passione vera e propria di come viene, di cos'è questo miracolo che tiene al polso. Perché per me, io l'ho sempre detto, questo è un miracolo dell'ingegneria umana. Cioè tu in un... ora ci vuole 39 mm, tu, e nemmeno anche in 31, 28 mm, tu hai una precisione meccanica al secondo. Ti ho detto io, prima che ti ho detto, il vero gioiello da uomo. L'orologio, l'orologio è un'opera d'arte. Sono d'accordo. A tutti gli effetti. Sono d'accordo. Non è che è un detto l'orologio, no, è un'opera d'arte per come è realizzata. Sono d'accordo. Tutte le sue sfaccettature. Eppure ci sono, ecco, ci sono un paio di brand che mi vengono in mente. È un'opera d'arte, sono d'accordo, ma i due brand che mi vengono in mente invece non sono molto ben visti e apprezzati dagli appassionati. E sono ovviamente Richard Mill, che, vabbè, probabilmente è quello più per le cifre folli ed astronomiche, ma anche mi viene in mente il signor Jay, per intenderci. Non so se vogliamo... Allora, io ti dico, per quando io spendo due parole per il discorso che hai detto, quindi in prima battuta il discorso Richard Mill, il discorso lì si basa su un parametro economico e sul parametro tecnico totalmente innovativo. Quindi un discorso tecnico non di status. No, allora cosa succede? Succede che va in contrasto totalmente con alcune complicazioni iconiche e il prezzo da determinati collezionisti, da appassionati, eccetera, eccetera, per tale motivo non è giustificato del tutto. Quello è il nesso di cui si parlava negli altri... Tu hai mai visto un appassionato con Richard Mill? Sì. Ok, io pensavo fosse veramente soltanto una cosa da artista, rapper, cantante. Sì, ma ti dico, non è la normalità. Non è... Certo. Assolutamente. Ecco, l'appassionato proprio serio. Il vero appassionato tu lo vedi con un complicato di Patek, lo vedi con un Lang, con un Journe, con altre tipologie di orologio, con delle complicazioni diverse, con una storicità e un'inconicità diversa. Certo, assolutamente. Nulla a togliere al brand, però secondo me, secondo non solo il mio parere ma quello di altri, è leggermente sopravvalutabile. Diciamo che se me lo dici tu, al tuo parere ci credo, visto che... No, ma devi... In questo modo. Ci sono pareri molto più importanti di quello del sottoscritto, non è una dichiarazione solo mia, assolutamente. Anche se, vabbè, io ti conoscevo da prima del podcast. Sì. E io ti ho sempre visto come l'appassionato che non si è approfittato del mercato. Ma ti dico, io... Ci sono alcuni nomi che mi vengono in mente che invece li vedo un po' più come... Non voglio essere offensivo, passatemi il termine, quasi... Clown, clown, ok? Nel senso più buono del termine, per fare numeri e insomma li vedo più approfittatori. Che però, questo vuol dire che sono comunque, visti i risultati che ottengono, grandissimi imprenditori in quello che fanno. Ecco, lì volevo arrivare. Tu devi capire, sai, ognuno della propria vita, del proprio lavoro fa quello che ritiene opportuno e ognuno segue il suo filo appunto imprenditoriale, la sua genialità, la sua capacità e tutto quanto. E in altro magari. E io, ti dico, io mi definisco un commerzante collezionista. Lo dico sempre a tutti i miei clienti, devi capire che io, e te lo possono confermare i miei ragazzi, qui presente c'è qualcuno, chi entra da me in negozio, io non faccio la vendita, questo è l'orologio, batto scontrino, finisce lì. Mediamente faccio gli appuntamenti che dovrebbero essere di 15 minuti e durano due ore. Bellissimo. Si mettiamo a parlare dell'orologio di suo nonno. Vedi la tua esperienza. Hai capito cosa succede? Sì. Ma perché principalmente piace in primis a me, hai capito? È tutto un discorso un po' particolare. Però io non mi sono mai permesso di criticare il modus operandi di determinati commercianti. Perché sai, ognuno ha il suo filo imprenditoriale. Sicuramente per qualcuno sbaglio anch'io. Quindi io ti parlo sempre da commerciante, collezionista, che fondamentalmente ti racconta ciò che ti vende. Bellissimo. Questo è Roberto. Stupendo. Tutto vero, non c'è niente di scritto, sto parlando nella massima. Assolutamente, ma chi guarda il podcast sa che qua andiamo a braccio, non c'è niente di preparato. Quindi è una reale chiacchierata tra amici, tra persone che si vogliono conoscere. Bevuto fantastico il coffee, siamo a Napoli, meraviglio, meraviglio. Davanti a un caffè, esatto. Una cosa che noi diciamo che si è molto persa, un pochino col tempo, sai la chiacchierata ecco. Ma questo manca, questo manca perché guarda che ti assicuro che a lungo raggio premia tantissimo. Premia tantissimo. Io ho clienti che ho conosciuto, ma non ti dico cazzate, ti dico la verità. Sono clienti che sono diventati amici. Cioè, il padrino di mia figlia è stato uno dei miei primi clienti. Bellissimo. Hai capito com'è? Bellissimo. Ed è il padrino di mia figlia la cosa più importante della mia vita. Quando parliamo prima di conversation starter, no? Miglior conversation starter del padrino di tua figlia che hai conosciuto. Hai capito? Grazie a te. Hai capito? Quindi ti dico, è il padrino di mia figlia, è stato uno dei miei primi clienti. Siamo in vacanza assieme, weekend insieme, ma da una vita, no? Da due mesi. Però hai iniziato perché gli hai venduto un orologio. Per caso, per caso, perché ha tutto per caso. Attraverso l'orologio tu magari scopri anche un pochino la persona, no? Ma sì. Ci sono alcuni maghi che fanno questo. Non ci conosciamo. Hai capito un pochino il carattere, quello che mi piace. Esatto, esatto. Ma poi sai... Che mi venderi? Ma tu sei, tu sei una persona da fuori produzione, 100%. Tu sei una persona da orologio iconico e deve avere una storia non banale. Assolutamente. Ok. Tu sei da orologio in acciaio, 100%. Sì, decisamente. Il materiale ecco prezioso. Vieni a trovare il showroom. Troppo vistoso, sì, sì. E ci dedichiamo alla giornata. Vieni a trovarmi. E così, veramente la vedo come un'esperienza. Ma certo, deve essere così. Ma poi ti dico, il 70% della nostra vita è posizionata sul nostro lavoro. Sì. Eh, cavolo, se il tuo lavoro non diventa il tuo bello, io ti dico... Hai buttato un pochino il... Caspita. Sono d'accordo perché ecco, ho la fortuna anche io di aver creato il mio lavoro intorno alla mia passione. Eh, questa è la cosa più bella che può... Sì. Pensi di essere... Fortunato? Non so... Sicuramente sei fortunato. Tantissimo. Te lo dico io a te, sei fortunatissimo. Tantissimo. Però pensi di essere arrivato? No, mai. Ok, non ti senti già... Ma sei matto, assolutamente no. Io, io non arriverò mai. Ok. Le sfide sono ogni giorno. Lei ne sa qualcosa. Ero in treno che continuavo a parlare al telefono. Assolutamente. Io ho tantissimi progetti in corso. Ok. Tantissimi, no, no, no. Che hanno sempre a che fare con lo loro. Certo, ovvio. Ok. Obbligatorio. Ecco, hai mai pensato? Perché questa è una cosa pure che si sta apportando, no? Dell'appassionato che magari ha fatto un gruzzoletto, ha fatto una fortuna con qualche altra cosa. Sì. E sta pensando di lanciare un brand. Tu hai mai pensato di creare il tuo orologio? No. Grazie a Dio. Assolutamente, assolutamente. Ti dico, un discorso è che vediamo l'orologino che viene creato per uno scopo di marketing. Ok. E quello l'abbiamo capito, l'abbiamo capito. Oggi mi permetto di dire una cosa a favore del mio collega che sai di chi parliamo. E' stato l'unico che è riuscito a fare questa genialità a livello di marketing, a livello di marketing. Sì, perché è un grandissimo imprenditore. Ed è l'unico che ci è riuscito perché tutti coloro che l'hanno copiato hanno fatto dei flop pazzeschi, ridicoli. Invece lui ha spaccato, ha fatturato e sono i numeri quelli che contano. Lui ci è riuscito. Questo è un po' l'effetto che si ha, ecco, a causa dei social. Ovvero del fatto che ci devi arrivare per primo, se non ci arrivi per primo, stai copiando chi ci ha riuscito. Bravo, bravissimo, bravissimo. E poi finisci ovviamente con il pulo. Naturalmente, chi ti copia, cioè per te che sei il maestro, colui che ha creato una determinata soddisfazione, è una soddisfazione. Dimmi il tuo budget, l'hai visto il mio format di tutti i giovedì? Sì. Eh, me l'han copiato una ventina di commercianti. Che invece di dire e mettere nella domanda specifica dimmi il tuo budget, cosa dicono? Qual è il tuo budget? Qual è il tuo budget? Scrivi il tuo budget. Stessa cosa non è formulata di questa. Ma sì, l'han copiato tutti. Sono stato uno dei primi a cercare di sponsorizzare, e ti spiego perché, a cercare di sponsorizzare la vendita e l'orologio in comode rate. Inizialmente questa cosa me l'han criticata a tutti. Mi davano delle, mi davano dello stupido. Onestamente, devo essere onesto, l'audio non mi piace. Comprare l'orologio a rate non lo so. Ti faccio cambiare idea. Sai perché? Prego. Ti spiego perché. Vai. Questa cosa qui è vista spesso dalle persone. Vorrei ma non posso. Esatto. Sono d'accordo. È sbagliatissima. Perché se tu invece ti faccio, io ti faccio vedere con mano, ti ospito io a Verona. Ok. Ti faccio vedere con mano chi si avvicina al finanziamento dell'orologio. Sono tutti ragazzi giovanissimi che per la prima volta vogliono raggiungere un obiettivo che a volte non hanno la possibilità di acquistarlo nell'immediato con la totale cifra. Ma ti parlo di ragazzi che non vogliono acquistare un Daytona 116-520. Io ti parlo anche chi vuol comprare un 1926, chi vuol comprare un BB58, chi vuol comprare un 14000, un Air King. Ti parlo di entry level. Ok. Sono nuove leve, sono i nuovi collezionisti possibilmente. Quindi questo mito che è pagare a rate l'orologio è una cosa negativa. Ma no, è negativo se tu ti finanzi l'orologio da 100k. Ok. Il mio punto invece è sempre stato è comunque un oggetto inutile. Come tantissime cose che noi indossiamo. Lo dico da appassionato, per me è un oggetto inutile. Me lo togli? Mi sento male. Bravissimo. Però è comunque un oggetto superfluo. Non chiamiamolo inutile, superfluo. Però è un obiettivo. Se avessi... Però è un obiettivo. Sì, sì. Se è un obiettivo e non te lo puoi permettere, aspetta, cresci, fai soldi ma non prendertelo a rate. Puoi fare altro con quei soldi. Puoi creare un business, puoi crescere nella formazione, puoi fare altro. Sicuramente è giusto quello che dici te, ma devi entrare nella mentalità di determinate persone. Certo, il ragazzino ovviamente questi discorsi non li pensa. Io vedo determinate persone che mi dicono preferisco farmi la piccola rata e acquistare l'orologio, perché sono sicuro che se li lascio lì, può essere che li brucio in un modo negativo. Eh no. Ti assicuro che ci sono dei risvolti che cambi idea. E c'è anche da dire un'altra cosa, che per come si muove il mercato, anche se, e ne voglio parlare tra poco, che secondo me, secondo tanti, sta crollando in discesa, e vabbè, ne parliamo tra poco perché il discorso che voglio prendere un altro, vista questa la situazione, c'è comunque una controtendenza, nel senso che il mercato secondario è vero che sta scendendo, però notiamo, anno dopo anno, che i listini aumentano e anche di brutto. Quindi magari, ecco, posso anche capire che il ragazzo, il ragazzino, ecco, magari lo prendo a rate, perché io so esattamente, precisamente perché sta andando così da anni, che l'anno prossimo mi sta comunque 200-300 euro in più sicuro da concessionario. Se parliamo di un oggetto nuovo, ma se parliamo di un orologio entry-level, fuori produzione, quel ragionamento lì non vale, hai capito, assolutamente. Su un 114-270, cioè, non possiamo fare un ragionamento del genere. Questo è il mio punto di vista, che ti dico, è obiettivo perché lo vediamo, carta canta, sono i numeri. No, perché ti faccio un esempio, per esempio io... Però, però, non sono tanto d'accordo con te sul discorso che il mercato è ancora in discesa. Il mercato, fidati di me, fidati. Il mercato si è, fortunatamente, si è assestato. I prezzi sono tornati ad essere quelli di prima e devi capire... Che sono comunque inaccessibili, tra l'altro. Che lo sai, perché lo sai, perché sono appassionato da quello che ho capito. Tu hai visto che l'orologio, negli anni, se vai dal 2000 in poi, quindi in avanti, ha avuto una crescita graduale, ma non esplosiva. Graduale. Quello che ti dicevo appunto della crescita degli stini. Adesso siamo tornati al parametro precedente e continuerà ad esserci una crescita normale, graduale. Perché alla fine l'orologio, se è fuori produzione, non ti faccio nomi di determinati orologi, non ti cito referenze, ti dico, parliamo in generale, senza fare... Se l'orologio è fuori produzione, vuoi o non vuoi, nel giro di X anni, non essendoci più la referenza in distribuzione, in produzione tutto quello che vuoi, lui, se è a posto, se è coevo e se ha tutte le carte in regola, mantiene il suo valore ed è, possibilmente, anche cresciuto. A me viene in mente un brand in particolare che è proprio impazzito, che ha duro, che però nell'ultimo anno ha fatto una mossa di mercato folle, secondo me, che è Seiko. Seiko che era, ecco, l'entry lever, ma vero entry lever, nel senso stiamo parlando di un 200-300 euro, se cui è l'orologio, ad oggi è quasi impossibile trovare un 200-300 euro, un orologio buono. Sì. Seiko? Parliamo che adesso un, come cavolo li chiamano, quelli prospect, prospects, i marimaster, eccetera, partiamo dai 400 euro a salire, che con tutto il bene, ripeto, adoro Seiko, mi piace tantissimo come brand per la storia, cioè, veramente, Seiko stiamo parlando, forse, di uno dei papà dell'orologeria in qualche modo, sicuramente grazie alla cui... Attorno al brand, attorno al brand sono, ci sono state presenti diverse situazioni importantissime. Esatto, che hanno cambiato da cui sia l'orologeria, però ecco, adesso non è più così tanto entry lever, anche perché scendendo un po' di più, ora non mi viene in mente, se non ecco, qualche casa secondaria, sempre Seiko, che sia Orient o che sia Citizen, eccetera, prezzi un po' più bassi... Stiamo parlando di un prodotto totalmente diverso, sai, che a livello collezionistico non ha lo stesso filo del prodotto che tratto io. Non lo ha assolutamente, eppure abbiamo notato, quasi un raddoppiare il listino di alcuni pezzi. Però dobbiamo fare un check generale di determinate situazioni. Da determinati anni, come ben visto, c'è stato un gap pazzesco, è aumentato tutto, è aumentato tutto, sono aumentati, c'è stato un aumento di tutta la fascia del segmento, su qualsiasi brand, si sono adeguati, è normale, è normalissimo. Per me è una cosa normalissima, per me è normale. Un'altra cosa su cui ho sempre riflettuto riguardo l'orologeria è che è come se l'orologeria in generale abbia avuto una specie di tutti i casi fortuiti. Siamo andati avanti, ecco dal, forse parliamo 2018 in poi, parliamo della pandemia, poi guerra, dopo la guerra Omega lancia quella, per me, geniale. Mons Watch, è stata l'operazione, ma criticato, ho capito, ma dobbiamo vedere, ripeto, prima di criticare una persona, una realtà, un brand, un'azienda, operazione per me, geniale. Devi vedere la, la mossa, perché di mossa si parla, la mossa di marketing che c'è dietro. Genio. Quella mossa di marketing lì specifica, ha tirato su il brand, parlando di Swatch, in una maniera pazzesca. Del brand quindi del gruppo tra l'altro. Madonna, ma stai scherzando, non è che ci sono dietro, ci sono dietro delle idee stupide, che qualcuno la mattina si è svegliato e ha detto facciamo il Mons Watch. E chi lo sa, ma i cazzi che abbiamo fatto? Ma no, ma lì c'è, lì c'è uno studio ben preciso, infatti è stato seguito poi da altre situazioni. Sì, sì che però secondo me non sono, ovviamente, non sono andati allo stesso modo. Ricordati sempre, ricordati sempre, te lo dico io che ho 41 anni, la prima bomba che lanci è quella più, è sempre la prima, quella che fa la differenza. Perfetto, ti faccio una domanda specifica. Lui ha fatto la differenza. Ti faccio una domanda specifica. Ricordi le file? No, vabbè, lasciano stare. Quella è veramente era, quello è stato secondo me l'apice della malattia. L'apice è il culmine, perché dopo quello non c'è stato niente di così vicino. Eravamo in un momento molto particolare, molto particolare, un momento folle e c'era focus, tanto focus sull'orologio. Quella lì era un orologino che ha spiazzato tutti. Lascia perdere il discorso giocattolo, è uno Swatch, non è un Omega, è una coppia. Lascia stare tutte queste cose qua. Alla fine... Però non è una coppia perché l'Omega è l'oro, quindi non è proprio... Sono due cose diverse. Vabbè, parliamo a livello tecnico, parliamo di... Ah, ok, certo. Follia, non si possono paragonare assolutamente. Però ti dico, posso dirti, io conosco tanti collezionisti, tanti, 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 ma tu sai che tutte le persone che conosco io hanno quel giocattolino lì. Sì, ma perché ci sta? E iconico nel mondo? Ce l'ho anch'io. Certo. Ok? Certo, certo. Scontrino numero due. Hai capito? Ok. Allora, scusa, perdono. La qui presente era con me. Scontrino numero due. Bellissimo. Ok. Ma c'è pure tu da fila e roba del genere? Io sono stato il primo. Ero lì. Una persona davanti a lei. Io sono stato il primo ad acquistarlo. Il secondo, perdono, ad acquistarlo. Ok. Ti immaginavo tipo da corsia preferenziale? Ma no, eravamo lì, abbiamo fatto la fila. Bellissimo. No, 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 ma per farti capire, ma perché volevo essere uno dei primi ad averlo, è un discorso mio personale, infatti molti all'inizio quando l'hanno... ma sai quanti li hanno venduti, hanno fatto soldi sopra, eccetera, eccetera, io non ho venduto proprio nulla. Non ho comprato per me, basta. Deve essere presente in mezzo a tutte le mie situazioni, assolutamente. Ok, allora vediamo una cosa. Se non fosse stato lo Speedmaster... Sì. Avrebbe fatto lo stesso successo? Assolutamente no. Guarda che, vuoi o non vuoi, lo Speedmaster lo conoscono tutti. Fidati. Lo Speedmaster è... dire Speedmaster è come dire Daytona al 50%. Ok. Ti dico il 50%, fidati, lo conoscono tutti. Ok, vabbè, però usiamo sempre comunque i termini Rolex. Ma certo, ovvio, ovvio, però ti dico, paragonato al brand è l'iconicità del brand, lo Speedmaster. Ah, certo. Quindi, vuoi o non vuoi, fa tantissima risonanza. Sì, sì, no, se penso a Omega penso sicuramente... E cavolo, l'ha fatta, l'ha fatta, sì. Assolutamente. E se tu pensi invece a Rolex, pensi al... No, se io ti dico Rolex, ti dico Daytona. Daytona subito. Per subito, la prima è quella, ma ci ti dicono Daytona. Io direi sempre... Vuoi che vado in ordine? Sì, io direi molto più banalmente il Submariner. No, invece ti dico in ordine, ti dicono Daytona, ti dicono Sub, dopo cosa ti dicono secondo te? Guardami. Lo Ser Perpetual. No. No. Ti dicono Daytona, ti dicono Sub, ti dicono Day Date. Fidati di Roberto. Dopo ti dico la Date Just, dopo ti dicono a seguire, GMT, eccetera, eccetera. Ma i tre più discussi sono sempre stati loro. Daytona, Sub e Day Date. Day Date, non scordiamoci che ha un focus a livello storico pazzesco. È l'orologio presidenziale. Sì, 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 presidential, ah che tra l'altro io ho pure il, ecco qua, non mi ricordo, si chiama il numero 11 se non mi sbaglio, il catalogo che ti racconta proprio il presidential watch. Che cos'è? Cioè ti dice proprio come... Ed è l'orologio spettacolare. Il l'orologio dei presidenti degli Stati Uniti d'America. Il bracciale è stato realizzato apposta per questo specifico discorso. Bracciale presidenziale. Cavolo. Bellissimo. Il tuo Grail qual è? Anzi, ce l'hai il tuo Grail Watch? No. Non ce l'hai? No, perché ti dico, ho una collezione abbastanza ampia che per me tutti sono dei, sono, tutte sono delle icone obbligatorie in collezione, nella mia collezione. Ok. Si può dire qual è il tuo orologio, proprio chi ami di più, qual è? Molto scontato. Il mio orologio al polso più comodo, perfetto, sempre, che mi mette proprio, che mi mette sempre... Di buon umore. Ma non di buon umore, che mi fa stare proprio in totale agio, è il Daytona, da sempre. Infatti ho svariate configurazioni dello stesso. Ok. Sono un appassionato di Daytona, sono favorevole all'innovazione della referenza, mi fermo al 116, non passo al 126. Il Platona non ti piace tantissimo, o sì? Io sono malato di Platino, malato di Platino, ma 116, li vedo 126, quindi contorno sugli ieri e ti dico no, assolutamente. Ok. Andiamo a... Classico. Secondo me, io da collezionista ti dico che è stata leggermente snaturata qualcosa. Io mi fermo al 116 che ha dei nessi reali e precisi. Già il fatto di tornare indietro col dial, ma quella per me non è una cosa favorevole. Quindi tu comunque favorisci progresso e innovazione nell'orologeria. Sì, ma mantenendo un filo storico e iconico. Andare a riprendere in pieno, dopo aver fatto dei passaggi, andare a riprendere in pieno uno specifico dial, perché hanno ripreso in pieno il dial Zenith, quindi stringendo il contatore. Secondo me quella mossa lì non è vincente a livello collezionistico, però è un mio parere. Ecco, una cosa che forse ho imparato scoprendo sempre di più questo mondo, è che alla fine il peccato più grande è che tanti brand che adesso fanno la storia, hanno già fatto la storia, sono sempre stati aiutati e supportati da brand che adesso forse nessuno più pensa, nessuno più si caca. Una cosa che mi dispiace tantissimo, come ho parlato adesso di Zenith, che Zenith prima faceva i calibri per Rolex. 40-30, è il primo. Ed è un brand amatissimo tra gli appassionati, che non vende più per qualche motivo. Amatissimo, vede solo la partecipazione di determinati collezionisti, determinate mosse di marketing pesantissime hanno coperto in toto. Lo sai che non conosco una mossa di marketing? Cioè io penso che Zenith non faccia pubblicità. Cosa ti ho detto io infatti? Anche se l'ha fatta e non la vedi. Perché? Perché determinate mosse di marketing enormi di colossi hanno sommerso altri brand. Un altro che mi viene... È la verità. Universal Genève. Ma non solo Universal, io ti parlo di Girard per Ego, ti posso parlare di Breitling. Viene molto più apprezzato Breitling rispetto a... Sì, ma ti assicuro che a livello commerciale hanno delle piccole criticità a livello di numeri. A meno che non sia... 100%. Io ti dico, negli ultimi anni, negli ultimi due anni, l'unico brand che è fuori dai classici Rolex, Patekio de Marra, guardate che l'unico brand che ha fatto discutere è Bulgari, con l'Octo. Finissimo. Cartier. No, no. Penso che se ne vendano una valanga. Piano. Si vendono, ma togliamo la V maiuscola. Ok. Si vendono solo Santos, mettiamola così. Oh, già. Mi piace molto di più. Ecco, benissimo, benissimo. Però ti dico, su Bulgari è stata data tanta attenzione sull'Octo Finissimo, quindi sul materiale innovativo, sulla ceramica, sul titanio, su tutto un concetto totalmente innovativo e diverso che ha avuto una leva di marketing favorevole sul brand. Ok. Ma non ho visto grandissima attenzione come Bulgari su altri brand di cui ne parlavamo prima. Ci siamo capiti? Sì, tipo, ecco, un altro brand che mi viene da pensare, che ha fatto la storia, sempre perché i loro calibri vengono utilizzati, ecco, nell'alto orologeria, Gegele Cutre, che per esempio, purtroppo, è un brand della Madonna. Parliamo di un oggetto fantastico. Però ti ricordi un solo modello? Eh, coloro che guardano Jäger guardano solo il reverso. Sì. Ma ti dico, Master Geographic, Master Compressor, si parla di referenze bellissime. Che nessuno conosce. Ma nessuno. Io ho venduto, l'ho venduto per ben due volte, ho venduto un tourbillon e non ricordo la referenza esatta, che era bellissimo, spettacolare, con una complicazione, un disegno affascinante. Però non sono orologi che hanno un grandissimo mercato, una grande leva di marketing, come determinate referenze che sono ogni giorno, ti apri social e vedi sempre le stesse referenze. Non solo, io ti dico anche un'altra cosa. Partiamo dal presupposto che, ecco, non sono ancora una persona molto ricca. Quindi quando faccio un acquisto del genere superfluo, superficiale, lo faccio per passione. Bravo. Però, purtroppo, sempre una vocina dentro di me, ovviamente... Se lo devo rivendere. Sì, sì. C'ho sempre, perché, bellissimo, anche io vorrei un Blampan, un FB Churn, che ne so... Ha capito? Mi stai facendo dei nomi che a livello tecnico sono... Eh, ho capito. Esatto. Stiamo parlando di disegni affascinanti. Però, spendere dai 20 ai 40k per un orologio, io ovviamente poi vado sul blasone che è Rolex, vado su due RPG. Ma chi compra un... Qual è? Chi è che compra questo? Il vero appassionato, colui che... Il vero ricco anche. Ma non è solo il fattore... Non guardiamo solo il fattore ricco. Ok. Compra quell'orologio specifico, chi ha veramente passione, chi non vende orologi, chi non lo venderà mai, e chi lo compra veramente perché è affascinato... Perché sa quello che c'è dentro. Da tutta la situazione specifica. Quindi è un'altra... È un altro, come dice mia moglie, è un altro campionato, un'altra poesia. È un qualcosa di diverso. È così, eh? Sì, no, no, va bene. Figurati, mi fido. No, un'ultima cosa. Pure, vabbè, ci sono 3.000 temi. Cioè a me adesso nella testa stanno... Ci rivediamo se vuoi. Io guarda che Napoli la amo, quindi ci rivediamo volentierissimo quando vuoi. Ma a proposito, tu hai mosse di Mark, cioè hai intenzione di espanderti con questa cosa? No, assolutamente. Io resto come base a Verona, resterò a Verona. Ma abbiamo dei progetti molto importanti, sempre su Verona, che ti dico, secondo me, se partono, partono bene. Che hanno sempre a che fare ovviamente con l'orologeria. Obbligatorio, io non posso fare altro. Ok, ma tu questa, tutta questa mania che c'è stata ovviamente dell'esclusività, io immagino che ovviamente per il secondo mercato è stato un bene, è stata una manna dal cielo. È stata, se ti posso dire io, più che manna dal cielo, è stata una conseguenza, sai. È stata una conseguenza. Quindi alla fine è tutto correlato, è tutto correlato. Quindi ti dico, l'esclusività del prodotto inizia a riesserci adesso. Perché ti assicuro che negli ultimi due anni precedenti, adesso già siamo in un momento lavorativo nuovamente, oltre a essere positivo, perché per me fortunatamente è ancora positivo, ma è molto bello. Ok, ti sta piacendo questo mercato. Invece, invece, anni progressi, c'è stato un momento che era solo molto positivo, ma c'erano delle situazioni che non erano bellissime. L'orologio comprato, scusa, perdono. No, figurati. L'orologio acquistato esclusivamente per un fattore speculativo, visto come bene rifugio da investimento, ti assicuro che non è bellissimo. Non è bellissimo concretizzare solo per questo motivo la vendita. Questo voglio farti capire. Se vendi un orologio oggi a 10 e sai che la persona appunto che l'ha acquistato già ha l'obiettivo di rivendere la 11 domani mattina, non è il massimo. Quello che mi ha fatto capire che comunque, ecco, venendo comunque da radici umili, quanto è stato difficile creare comunque questo impero? Parliamo di lusso. Quindi come una persona senza tanti soldi può creare una realtà del genere? Allora, io ho creato tutto da zero. Sono partito con, non ricordo se erano 27 o 29 mila euro, i miei personali risparmi. Quindi messi da parte veramente mese per mese. Se ad oggi si compri forse un orologio buono. Perfetto, non ci compri. Io sono partito da lì. Ho aperto lo showroom che ho aperto. Inizialmente avevo sette orologi in negozio. Nulla. Pian piano sono partito, pian piano mi sono fatto conoscere, ma ho sudato seriamente tanto, tanto, tanto. Era un altro momento in cui ti dico, se avevi, se riuscivi ad avere velocità del prodotto, riuscivi a crearti uno stock, un magazzino. E così ho fatto. Oggi è difficile perché è leggermente più difficile, non voglio essere drastico, è proprio negativo sul fattore A, non parti, no, non è quello. È più difficile perché? Perché la fascia di mercato, il prodotto ha delle necessità economiche diverse, è più caro. Quindi ci vuole un capitale sicuramente più alto. Ci vuole un capitale diverso. Siamo molti a fare questo lavoro. Quindi conoscenze. Perché guarda che c'è stato un excursus negli anni pazzesco perché sono venuti fuori tantissimi commercianti, ma tanti, tanti, tanti. Questo è sempre col, come si chiama, il caprispietro, lo specchio per le allodole. Quando esce una cosa si buttano tutto. Guadagno facile, lo chiamo guadagno facile. Hanno visto questo, si sono buttati lì. Tantissimi, tantissimi. Guadagno facile, gente che faceva, ti faccio un esempio, lavori normalissimi, avevano due soldi, si sono buttati subito. Foro lo gerì. Subito, senza avere né arte né parte, senza conoscere la materia, senza conoscere il prodotto, non avendo studiato. E ti dico, io sono uno che tuttora ti possono dire, ai miei ragazzi, io studio sempre, ogni giorno, di continuo, mi documento, studio, leggo, e non mi fermo mai, assolutamente. Vediamo quanto prevale il tuo essere appassionato o quanto prevale il tuo essere imprenditore in questa domanda. Dai. Che ora mi viene in mente, perché per l'appassionato solitamente, anzi il 99% delle volte, l'orloggio non è mai un investimento. Ma deve essere così. Perfetto. Ok. Ti correggo. Fai un investimento sulla tua persona, sulla tua collezione. Non fai un investimento finanziario. L'orologgio non è un prodotto finanziario. Emozionale. È un prodotto. Te lo compri perché raggiungi un obiettivo. Un prodotto che ti dà della positività. Vuoi raggiungere un qualcosa. L'orologgio è un qualcosa che appartiene al bello, hai capito? È un qualcosa di diverso. Chi vendeva l'orologgio principalmente con focus prodotto finanziario è andato completamente fuori strada. E io ho visto tanta gente che a riguardo si è fatta veramente male. Male, male, male. Perché ci sono stati nuovi, dai, chiamiamoli così, nuovi collezionisti, chiamiamoli così. Ok, ho capito a chi ti riusci. No, 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 non parlo di commercianti. No, un tipo di persone. Un tipo di persone, utenti finali, quindi che hanno acquistato determinati orologi nel momento massimo di hype. Con lo scompaio di questi geni, perciò ti dico, sì, sì. Cioè, hai capito? Pagare un Daytona ceramica 52 mila euro. Eh, a un certo punto. Ma l'ho detto io a determinati miei clienti che era una follia. Ora quanto siamo? 24, 23? Ma no, sono tornati ai parametri normali. Ok. Adesso un Daytona ceramica 116, te lo trovi 116, 500. Ok. Te lo trovi tranquillamente a 23, 24 mila euro. Esatto. Te lo trovi a 24, lo trovi... Hai perso la metà di quello che hai. Caspita, sono tornati di nuovo ad essere presenti i parametri normali. Ecco, forse l'unico tipo di, tra virgolette, investimento che farei nell'orologeria è sapere che la base di partenza di valore di rivendita può essere un paio di migliaia di euro in meno a quanto lo hai acquistato, se parliamo di un pezzo non ricercato. Sì. E quindi diciamo che hai preso dei soldi, te li sei goduti, perché io ovviamente me li indosso tutti, pure se dovessi pagarli 7 miliardi di euro io lo devo tenere al polso, non mi interessa. Però so che lo faccio perché voglio, non perché lo devo rivendere, però so anche che male che vada ho quei tot mila euro in meno che ecco magari in dieci anni ho speso, che ne so, duemila euro per una passione. Sì. Ok. Quelli che ho preso. Però si dico anche un'altra cosa, che il giusto acquisto oggi lo fai, il giusto acquisto lo fai ponendo l'obiettivo di, come si suol dire, raggiungere appunto, raggiungere la volontà di raggiungere un altro obiettivo, quindi tu compri uno specifico orologio, punto in alto è il tuo, già hai appunto il progetto di dare in permuta il tuo orologio e non perdere. Cioè il tuo obiettivo è aumentare il tuo focus. Ho capito che dici fai un upgrade da orologio a orologio. Ragiona con l'upgrade, non ragionare col discorso perdo. Io ragiono più su questo. Eh no, io ecco, perché sono pazzo, questo l'ho ottenuto per raggiungimento di una cosa molto importante, non lo darò mai via. Il mio prossimo, ecco, ecco il mio grail al momento, molto raggiungibile, proprio recentissimo, in Explorer, l'uno. Ma ci arrivi? Tranquillamente, però ecco, vedi, essendo un'emozione, ricordandomi quello che ho fatto con questo, non lo cederò mai. Lo so che per le persone normali queste cose difficilmente le possono capire. No, 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 invece è normalissimo quello che dici tu, però ti dico. Questo episodio è per gli appassionati. Se tu, con questo specifico acquisto, hai, tra virgolette, celebrato il tuo obiettivo, se fai un upgrade importante, il tuo obiettivo resta sempre lì presente. Qual è il tuo? Eh, molti cambiano la, si chiama Holy Trinity, la chiamano così in gioco. Parlami di questo discorso. No, nel senso sappiamo tutti benissimo, appassionati, che questa Santa Trinità di cui si parla nel mondo dell'orologeria, varia, vedo che varia anche molto, da persona a persona. Per alcuni è Vacheron, Odemar Piguet, Patek, altri invece ci mettono, non so perché, Rolex in mezzo, altri invece ci mettono, ecco, brand forse un po' più di alta orologeria. Anche perché per me, no, ecco, forse sì, Vacheron, Odemar, sicuramente parliamo di alta orologeria, forse quella di cui parlo io è, non è alta orologeria, ma manifattura. Sì. Cioè, completamente manifattura, ovvero, FB Journe, Moser, eccetera. Sì. Qual è la tua Holy Trinity? Vediamo. La tua personale, visto che vi do... Allora, io ti dico, io ti dico Patek, 100%, ti dico Patek, ti dico Odemar. Ok. Ti dico Journe, ti dico Lang. Ok. È una Holy 4, quindi non è Trinity. Sì, ma io ti sto dicendo, vado avanti, ti dico le mie preferenze specifiche e ti dico Rolex. Vabbè, senso che, ecco, quanto aiuta in un brand... Quindi ti ho detto 3 più 2. Io sono... Sì. Ti ho detto i miei focus principali sono sempre stati questi 5 punti d'arrivo. Quanto ha aiutato alcuni di questi brand, Rolex, sappiamo la risposta, come posizionamento nel mondo per poi diventare questi colossi che sono diventati? Cioè Rolex sappiamo come ha funzionato il marketing, ovvero si è posizionato in ambiti sociali, culturali, sportivi, altospendenti. Ma sin dal periodo di... Formula 1 e tennis. Ma non solo. Se parli 1900, non ricordo esattamente l'anno specifico, 1930 è qualcosa, quando c'è stato il primo evento per la resistenza all'acqua del sub, del, pardon, del Rolex. Ah, sì, 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 sì. E quelli sono eventi che sono passati alla storia, Everest e quant'altro. Sì. Quindi parliamo di eventi storici, sin da lì loro hanno puntato... Sui giornali a far vedere. ...su questo specifico segmento di marketing, che allora non si chiamava marketing, ma era sempre pubblicità. Quindi loro sono stati fortissimi da questo punto di vista. Quanto aiuta quindi un brand del genere, un brand nuovo, ok, che vuole iniziare a questo tipo di marketing? Tanto, tantissimo, mio parere. Ok, perché come vediamo adesso ci sono, ecco per esempio, se non sbaglio Rolex si è appena ritirato dalla Formula 1, se non sbaglio, perché adesso è Tagoyer. Esatto, esatto. E vabbè pure lì ci sta un altro... Mantengono il tennis, mantengono il tennis, ma si sono ritirati dalla Formula 1. Sì, sì, sì. Ok, vabbè diciamo che se lo possono permettere. Sono mosse di marketing, sai, poi non sappiamo esattamente cosa c'è dietro, ma sono mosse di marketing specifico e studiato. Potrebbe essere un brand che cade? Mai, nella storia? Sì, impossibile ragazzi, impossibile. Non ce la vedi una cosa del genere? Ma non succederà mai, non c'è la probabilità, non esiste, ma assolutamente, no, 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 ma non ti parlo per un discorso finanziario, ti parlo per un discorso di storia, cioè il brand è troppo forte, la vedi diversamente? No, 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 penso che tutto quello che stai dicendo è ovvio. È impossibile, è impossibile, è impossibile. No, no, sto facendo segno al produttore che è tutto a posto, un tiro qua. Siamo fuori tempo? No, 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 infatti adesso volevo chiudere perché no, altrimenti mi dilungo troppo perché ecco, da appassionato... Se hai un parere diverso, io del discorso dei brand ti ho detto i miei brand preferiti che devono essere assolutamente presenti nella collezione di Roberto Verde. Se hai un parere negativo per il discorso che ti ho detto adesso, la mia dichiarazione del brand è che è impossibile cancellarlo, dimmi pure perché il confronto per me è importante. Sono d'accordo, sono contentissimo di averti avuto qui. No, il piacere è mio. Sono contentissimo finalmente di aver parlato con un vero appassionato. Ma ci rivediamo, ci rivediamo se vuoi. Molto volentieri che della sua passione ne ha fatto anche un lavoro. Complimenti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.